Salve a tutti, benvenuti alla Bottega Didattica, sono Gianfranco Marini e voglio presentarvi un programma estremamente utile, soprattutto per gli studenti più piccoli e delle scuole elementari, per esempio, Storyjump. Storyjump serve per creare e pubblicare storie. Vediamo subito che è così Storyjump. Storyjump è un'applicazione, è piuttosto semplice da imparare, è totalmente gratuita, è studiata appositamente per lo storytelling. Si tratta di un ambiente protetto, in cui possiamo creare e gestire delle classi e in cui possiamo combinare testo, audio e immagini per costruire delle storie. L'ambiente che propone Storyjump è un ambiente online collaborativo, in quanto le storie possono essere anche create collaborativamente, è finalizzato alla narrazione. Le storie sono multimediali, in quanto possiamo aggiungere immagini, come detto, possiamo aggiungere la nostra voce registrata, che racconta, possiamo aggiungere anche una colonna sonora, degli effetti sonori. Le storie possono essere rese pubbliche o private, facilmente condivise, abbiamo già detto che possono essere individuali o collaborative. Abbiamo anche a disposizione una libreria di immagini, scenografie, scene e oggetti che possiamo inserire nel nostro libro, nel libro che andremo a pubblicare, è piuttosto ampia. Possiamo anche caricare immagini dal nostro computer. Questo è il sito di Storyjump, prima di vedere come funziona, vediamo qual è il risultato finale, cioè il libro, una volta pubblicato. Ecco, questo è un libro, la tigre che ha perso il proprio ruggito, per poterlo consultare e leggere, clicchiamo qui. Vediamo che abbiamo una dedica e comincia la storia, immagini e testo. Potremmo anche avere suono, in questo caso non vi è suono, si sfoglia in questo modo. Come si vede subito, è possibile anche esprimere il proprio like, inserire commenti, ci si avvesa di inserire commenti carini e non negativi. Possiamo condividerlo con un link, copiando questo link, oppure questo codice che ci permette di incorporarlo, per esempio, nel nostro sito, nel nostro blog e così via. Possiamo anche tradurlo, avremo una traduzione automatica non del tutto precisa e possiamo comprarlo, è così che Storyjump guadagna, diciamo così, consentendo ai genitori, ai bambini, a chi ha creato un libro, di comprarlo. Quindi la composizione, creazione e pubblicazione del libro è totalmente gratuita. Il difetto principale è che, come vedete, la visualizzazione è estremamente ridotta, è molto piccola, non è a schermo intero, certo, potremmo ingrandirlo con control più e in qualche modo sopperire a questo problema. Per comprarlo si clicca su buy e vedete, ci viene proposto un libro con la copertina rigida, un paperback, i prezzi sono abbastanza sostenuti e anche la possibilità di scaricare e stamparlo. Se andate sulla library, sulla libreria, potete consultare i vari libri già pubblicati, si può notare che ci sono storie, leggende, c'è qualcosa sull'autismo, la nuova casa di luna, non so cosa si sembra un cagnolino, quindi si presta a vari utilizzi didattici, racconti, le presentazioni di se stessi, le vocali, gli animali, storie di pura fantasia, diari personali, e quindi il racconto di quanto ci è accaduto, eccetera. Proviamo adesso a vedere The Megasaurus. Se lo apriamo ci accorgiamo che esiste anche la registrazione, la narrazione vocale. Cliccando possiamo ascoltare una voce che legge quanto scritto nel testo che viene riportato. Bene, andiamo adesso a vedere come funziona Storyjumper. Cliccando su Sign Up potremo registrarci con un nome, scegliendo una password, e poi dovremo anche inserire la nostra data di nascita, ci verrà chiesta la mail, la scuola in cui noi insegniamo, nel caso siamo docenti, daremo tutte queste informazioni. Dopodiché ci verrà inviata come al solito una mail e per convalidare la registrazione dovremo cliccare sul link contenuto in questa mail. Io adesso mi loggerò col mio account e clicco su Login. Questa è la pagina principale, l'area di lavoro, a cui si accede cliccando su Home. Qui accedo invece alla libreria di tutte le storie che sono state condivise, di libri pubblicati che sono stati resi pubblici e condivisi. Qui invece posso accedere al mio profilo e modificare per esempio la password. Adesso torniamo nell'area di lavoro, vediamo come si presenta. Io posso aggiungere altri docenti, posso creare delle classi e aggiungere gli studenti, posso guadagnare denaro o comunque posso vedere come funziona la gestione del denaro, ma noi ci concentreremo adesso sulla creazione di storie. Posso anche leggere libri cercandoli nella libreria appunto. Bene, per creare una nuova storia clicchiamo su Make a New Book. Abbiamo la possibilità di scegliere tra diversi modelli, possiamo iniziare una storia vuota, per così dire, scegliere Blank oppure scegliere un modello. Io scelgo The Monster, viene caricato il libro e al primo accesso ci viene offerta la possibilità di guardare un tutorial, chiudiamo, ci vengono dati dei suggerimenti. Vediamo come si presenta l'area di lavoro. In primo luogo qui sulla sinistra abbiamo un menu, se clicchiamo su Text, ecco, vediamo le quattro voci del menu, qui possiamo aggiungere del testo, qui possiamo invece aggiungere gli elementi della scena, oggetti oppure personaggi, queste sono le varie scenografie, ne sono disponibili delle altre che possiamo cercare, come vedremo, e infine possiamo caricare delle immagini. Andiamo a vedere come si aggiunge il testo, ma prima di vedere questo vediamo dove ci troviamo nel nostro libro, qui sotto abbiamo una linea che ci mostra le varie pagine, questa è la copertina, possiamo modificare la copertina, possiamo modificarla cambiando per esempio lo sfondo, ecco, per esempio lo facciamo blu, possiamo anche cambiare l'immagine, selezioniamo l'immagine e possiamo per esempio rimpicciolire, possiamo ribaltarla, possiamo ovviamente spostarla, possiamo anche aggiungere un'altra immagine, scegliendola tra le immagini presenti nel nostro libro, in questo caso vedete abbiamo due immagini, cancelliamo per esempio questa e lasciamo questa che come vedete è fissa come parte dello sfondo, qui possiamo modificare il titolo, così vediamo anche gli strumenti che ci consentono di agire sul testo, seleziono il testo e cambio per esempio il colore, adesso il rosso, posso anche modificare la grandezza del font, farlo più grande, bold, grassetto, italicus, sottolineato, queste sono le opzioni che ho nel testo, molto semplici e molto intuitive da utilizzare, posso anche modificare la posizione degli altri elementi della pagina, quindi modificare l'impaginazione, qui non si vede ma c'è una manina, cambio lo sfondo, eccola, posiziono il puntatore del mouse sulla manina, vedete posso muovere il mio testo e torniamo adesso, posso aggiungere qui l'autore, il nome dell'autore, bene per spostarmi da una pagina all'altra basta che col mouse selezioni la pagina desiderata, per esempio qui posso inserire una dedica andiamo avanti e questa è la seconda pagina, escluso dal conteggio la copertina, qui inserirò il testo, c'era una volta e comincerò il mio racconto se non sono soddisfatto del font, seleziono e per esempio mettiamo quest'altro, Berkshire, bene cos'altro si può fare? torniamo al menu testo, vediamo che abbiamo differenti cornici, per esempio potrei inserire, selezionare questa, vedete, si inserisce una nuova cornice in cui io posso inserire dell'altro testo, posso anche usare la tecnica del fumetto, inserire questo balloon lo seleziono, vedete, comparirà qui, ma io lo voglio spostare per esempio qui, lo posso ridimensionare e qui scriverò come se fosse l'orsetto che parla, lo posso ridimensionare come voglio, vedete ecco qua, e così posso costruire dei fumetti andiamo a vedere adesso come inserire gli elementi in una scena cancelliamo questo elemento, per cancellarlo clicco sull'elemento e poi sulla croce rossa delete, cancella, si chiede se sono sicuro di voler cancellare questo elemento io clicco su ok e abbiamo concluso bene, dicevamo, vediamo alcuni personaggi per selezionare un personaggio, per esempio, ho questo bambino clicco sopra e come vedete mi comparirà qui lo sposto che cosa posso fare? posso ingrandirlo posso clonarlo cliccando su questo testo su questa icona posso aggiungere altri personaggi per esempio inseriamo quell'altro personaggio posso ruotarlo posso rifletterlo orizzontalmente ingrandiamolo un altro po' posso anche sovrapponendo due figure decidere quale deve essere in primo piano usando queste frecce adesso ho selezionato la femminuccia e la metto dietro il maschietto ecco qua se voglio aggiungere una scenografia andrò su scene qui vengono proposte alcune scenografie tra cui scegliere per esempio scelgo queste come vedete ho ambientato i miei personaggi in una determinata scenografia questo lo cancelliamo posso anche inserire i miei personaggi torniamo nel menu personaggi e cerchiamo per esempio tiger vengono proposti i vari tipi di tigre ma vedete posso anche scegliere people o food o scegliere che ne so una spada ecco qua come clicco sulla spada questa scompare a questo punto chiudo il box di ricerca ed ecco la spada clicco sulla spada e questa comparirà sulla scena ecco qua il bimbo adesso ha una sua spada stessa cosa si può fare con le scene se clicco su scena vedete mi dà la possibilità more scene più scene e qui posso appunto selezionare un'altra scena o cercarla per esempio sì c'è già sì non era inutile farlo per esempio jungle è meglio cercare in inglese ovviamente e posso selezionare un'altra scena bene lasciamo stare così e supponiamo invece andiamo in un'altra pagina supponiamo dicevo di come essere soddisfatti qui ci chiede di mettere del cibo vedete in clicchiamo e automaticamente viene aggiunto il cibo ma supponiamo che non ci piaccia questa scena come possiamo fare clicchiamo sul menu scene e semplicemente scegliamo un'altra scena questa per esempio di nuovo e come vedete scompare la scena precedente oppure possiamo anche caricare una nostra scena come si fa? bene andiamo su photos e su carica le tue foto basta cliccare su upload e questa finestra ci chiede ci dà delle indicazioni browse e quindi frughiamo nel nostro computer oppure dal nostro computer trasciniamo in questa finestra la foto che ci interessa prima di fare browse andiamo su immagini vediamo immagini campione e scegliamo per esempio questo questo faro questo deserto ecco viene caricata la nostra immagine e ci si chiede voi che questa immagine che hai caricato sia raccolta catalogata come scena o come elemento all'interno della scena diciamo che è una scena in questo caso possiamo anche ritagliare vedete la parte che ci interessa la lascio così e se ci va bene cliccheremo sulla spunta possiamo anche ribaltarla non mi sembra il caso clicchiamo sulla spunta e vedete la nostra scena viene aggiunta possiamo quindi inserire immagini dal nostro computer possiamo per esempio far disegnare dei personaggi o degli altri elementi grafici agli studenti e poi acquisirli con uno scanner per esempio e caricarli oppure possiamo acquisire o caricare immagini scattate con il nostro smartphone per esempio vediamo come fare adesso per utilizzare una funzione molto interessante la narrazione e cioè l'aggiunta della nostra voce narrante di una colonna sonora o di effetti effetti sonori ovviamente clicchiamo su narrate e come vedete viene isolata questa scena adesso non ci sono personaggi avrei dovuto inserire un personaggio per farlo parlare ma clicco su record e comincio a registrare con un microfono mi verrà chiesto a consentire ecco sto già registrando speriamo ci sia un centro commerciale che vorrei proprio bere una bevanda zuccherosa che ho molta sette ho cliccato perché ho concluso la mia registrazione adesso per verificare la bontà della registrazione clicco qui sentire ecco sto già registrando bene ovviamente si sente molto male e vedete che cliccando abbiamo tre barre e in cui scorre il suono possiamo agendo sulla quarta spostarci in modo da riprendere l'ascolto nel punto desiderato alzeriamole bene qui abbiamo nella prima barra la possibilità di registrare la nostra voce posso anche cancellare vedete rimuovere la narrazione adesso la lasciamo stare posso poi aggiungere con la seconda linea la seconda barra una musica di sottofondo una sorta di colonna sonora cliccando sul più mi vengono proposte alcune colonne sonore non posso aggiungerne altre per avere un'anteprima basta cliccarne su una di queste per esempio Adventure 2 ecco supponiamo che mi piaccia clicco sul più a questo punto ho aggiunto la mia colonna sonora proviamo a vedere come vedete la mia voce e la colonna sonora si sovrappongono ci sono anche degli effetti speciali chiamiamo così degli effetti sonori cliccando sul più li possiamo ascoltare ecco qualcuno che mastica un jet eh aggiungiamo il jet e come vedete il suono del jet occupa a una durata che ci viene raffigurata rappresentata da questa barra ascoltiamo eh chiedo scusa devo mancare qui speriamo ci sia un certo commerciale che vorrei proprio bene bene adesso è venuto fuori un po' un pasticcio cacofonico ma era solo una prova ovviamente bisogna integrare bene i suoni si può anche semplicemente lasciare la propria voce per rimuovere un effetto speciale basta cliccare sul solito segno che indica la cancellazione possiamo togliere anche la musica lasciarla lasciamola in questo caso una volta che abbiamo terminato clicchiamo su done fatto ecco qua eh diciamo che il nostro libro è terminato avete visto che io posso spostarmi eh in vari modi le pagine sono infinite ne posso aggiungere basta cliccare su aggiungi una pagina e come vedete aggiungere un'altra pagina vediamo ancora alcune caratteristiche eh di questo menu di questa linea posso per esempio spostare le pagine basta che clicchi su una e la trascini nel punto desiderato nel punto desiderato ecco qui posso cancellarle posso per esempio questa pagina la voglio riproporre voglio riproporre questo sfondo seleziono la pagina e la clono la copio ecco qua vedete se il risultato della mia operazione non mi soddisfa clicco undo ripristino la situazione di partenza bene concludiamo con questo menu qui in alto invita per invitare altre persone basta inserire la mail del nostro collaboratore se si tratta di bambini possiamo creare una mail apposita della classe la posso creare io come insegnante e posso usare quella per gli studenti e i più piccoli posso condividere qui abbiamo le varie opzioni di condivisione spieghiamole posso rendere pubblica alla mia storia in questo caso non è pubblica è privata io la posso vedere e chi ha il link posso condividere questo link copiarlo e darlo a chi voglio posso condividere in alcuni social network vedete facebook pinterest twitter posso copiare il codice che mi permette di inserirla in un blog allo remixing vuol dire che posso consentire ad altri di copiare il mio libro e di modificarlo di farne una storia a loro modificandolo posso anche editare il livello di sicurezza questo è molto importante clicco su edit se seleziono pubblico possono vederla a chiunque possono trovarla anche per esempio in un motore di ricerca tramite un motore di ricerca se clicco su family and friends possono trovarla soltanto a coloro a cui ho dato il link e invece l'opzione privato consente di vederla soltanto a me clicchiamo adesso su cancel vedete il nostro libro è stato pubblicato può essere rieditato qualora io voglio fare delle aggiunte o delle modifiche basta che clicchi su edit e ritorno nell'ambiente di editing dove posso modificare posso stampare per stampare ovviamente però devo pagare a questo punto ho concluso le modifiche salvo ed esco ecco come dicevo questo è il mio libro bene ci sarebbero tante altre cose da dire il video tutorial è piuttosto lungo quindi mi fermo qui ma si tratta di uno strumento veramente molto carino che soprattutto può essere utilizzato dagli studenti di ogni età è personalizzabile permette di unire immagini testi musiche e la voce registrata vi ringrazio mi scuso ancora per la lunghezza del video tutorial e vi auguro una buona giornata grazie a tutti